vabbè raga anno verso e io concludo questo episodio di model warfare 2 arriviamo a 5 anzi a 3 mi piace per un nuovo model warfare a 4 per il restring già raga comunque per questo video è tutto spolli già anzi non falla tu la tua intro e non ricordo quella dell'ultimo come era bene ragazzi concludo questo episodio di model warfare 2 se arriviamo a 3 mi piace e uscirà un altro di model warfare se arriviamo a 4 mi piace restring